Erano residenti a Benevento, Milano, Perugia e Ancona, ma avevano scelto Marotta come centro operativo della loro strutturata attività di traffico di cocaina che si dipanava nelle piazze di spaccio anche delle limitrofe province di Ancona, Perugia e Rimini. Così quattro indagati sono finiti in manette ieri attraverso una operazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Pesaro Orbino, dando esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro. L'indagine avviata in primavera ha consentito di documentare l'elevata operatività su Marotta di questo gruppo di soggetti, in gran parte pregiudicati, in grado di mettere grandi quantità di cocaina nel pesarese e nelle province confinanti. L'operazione, denominata Mare d'Inverno, ha fatto luce su ruoli e modalità operative di ogni singolo indagato ed è emerso che la cocaina veniva tenuta in deposito all'interno di un agriturismo in provincia di Perugia che era nella disponibilità di alcuni degli indagati. Qui veniva frazionata in quantitativi variabili fra uno e cinque etti e trasportata attraverso auto non riconducibile a nessuno degli interessati nel ristorante di un campeggio estivo di Marotta, anche questo gestito da due degli indagati. Proprio qui aveva luogo lo smistamento della droga in favore degli acquirenti che a loro volta provvedevano a tagliarla in singole dosi destinate ad ulteriori cessioni al dettaglio. Nessuno degli indagati aveva un reale interesse alla stabile permanenza su Marotta ma avevano scelto la località estranea alle loro dimore per farne un vero e proprio centro operativo per lo spaccio sul territorio. Su Marotta le indagini hanno dimostrato che l'attività di spaccio al dettaglio era appannaggio di due degli arrestati che si avvalevano di altri soggetti. Si è accertato che la droga veniva abilmente nascosta in anfratti di vari condomini non riconducibile agli indagati come ad esempio all'interno dei tubi degli impianti di condizionamento o dentro le canne fumarie pronte per essere prelevate e cedute a terzi. Addirittura si è scoperto che gli indagati per occultare le dosi di cocaina utilizzavano scatolette metalliche grosse come un pacchetto di sigarette alle quali erano applicati magneti così da poter essere attaccate sotto le auto in sosta, dentro le porte scorrevoli di ascensori o ai lampioni pubblici. Complessivamente sono state deferite all'autorità giudiziaria 12 persone, oltre ai 4 in carcere altri 8 sono indagati in stato di libertà e sono stati documentati più di 30 episodi di spaccio per un quantitativo accertato di oltre 9 kg di cocaina dei quali uno e mezzo sequestrato. Proprio questa notte 40 militari del comando di Pesor Urbino insieme al personale dei carabinieri di Senigaglia, Montessarchio di Benevento, Milano Monforte e Gubbio e con l'ausilio dell'unità cinofile di Pesaro hanno dato esecuzione del provvedimento restrittivo effettuando numerose perquisizioni durante le quali si sono sequestrati contanti per 25.000 euro, cellulari e appunti di rendiconto di spaccio. Nel corso di una perquisizione a Marotta un altro uomo è stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana e 5 grammi di cocaina e quindi arrestato in flagranza di reato diventando il tredicesimo indagato nell'inchiesta. Sono stati trovati anche 25 grammi di cocaina suddivisa in dosi nascosti in diverse aree pubbliche di Marotta.